Il cazzo doppio di settimana scorsa, andiamo alla stessa ora di Mike Buongiorno, gli rubiamo i clienti. Le rapine ai danni di gioiellerie, banche, uffici postali o portavalori sono state 1440, in media 360 al metro. Tu lo sai che con due negozi avrai la metà del tempo per noi e due volte la possibilità di essere rapinato? La paura è qui, ma io non me lo posso permettere di ascoltarla questa paura. Quel delinquente ha puntato la pistola in faccia a mia figlia. Io mi son difeso, ma non è esploso neanche un colpo. Lascialo! Non ha paura di diventare un bersaglia? Sei diventato il giustiziere. Mi fanno passare la delinquenza per politica. Proletari armati per il comunismo. I rischi sono reali. Pronto, chi è? Sei tu il figlio dell'infame? Tu manca pagherà tu? I torreggiani questi li fanno sul serio. Sentirò la puoi più gestire da sola. Per quanto la facciano incazzare come i giornali parlano di lei? O si fa aiutare, o si fa ammazzare. Io non butto via tutto quello che ho costruito. Non lo butto via.